Benchmade, modello 755 MPR, un ottimo coltello EDC, veramente ben fatto e molto massiccio. La struttura esterna è in titanio e G10, il frame di sotto praticamente assieme alla clip sono in titanio, anche abbastanza spesso, e più abbiamo una carcassa in G10 che completa l'altra parte del coltello. Le finiture sono della serie alta della Benchmade, quindi effettivamente fatto molto molto bene. Questo è il 755 BK, perché ha la lama nera, si può avere anche il modello uguale, però con la lama satinata. L'apertura è una mano, lo scatto è abbastanza secco. Il coltello è disegnato da Shane Siebert. La lama è abbastanza spessa, abbiamo una leggera disegnatura per l'appoggio del pollice. L'acciaio utilizzato per la lama è l'M390, un ottimo acciaio. In più ha questa copertura al titanio, che rende il coltello un po' più aggressivo. Il coltello è molto comodo da utilizzare. Il frame, come vedete, ha un fermo lama, quindi non può andare oltre. Inoltre prende più della metà della lama. Sopra il frame abbiamo una piccola guancetta in G10, pure da là, da questo lato. L'apertura e chiusura sono abbastanza agevoli. Inoltre le dimensioni permettono il porto in tasca abbastanza tranquillamente. Benchmade 755 MPR 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 Grazie a tutti.